Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi finalmente, dopo la presentazione che se vi ricordate abbiamo fatto almeno due o tre mesi fa, vi porto sul canale e vi presento, vi faccio il video Cosa ne Penso di Dire Chasm, l'ultima scatola dell'attuale season di Warhammer Underworlds che, consentitemelo, è uno dei titoli di punta. Se non il titolo di punta da torneo della Games Workshop, è un gioco famosissimo e altamente da competizione anche perché va a mischiare un gioco di creazione del mazzo, come vi farò vedere poi nel corso del video, a un gioco di battaglie fra bande e miniature. Questo non è per eserciti, è solo un gioco di schermaglie ed è un titolo velocissimo dove addirittura una volta appeso il regolamento, magari una partita dopo l'altra, si riuscirà anche a chiudere un match nel giro di 20 minuti. Quindi, non a caso, spesso dei negozi, anche la Gioco Libre di Asemola, il nostro negozio sponsor, che ringrazia per averci offerto questa copia per la recensione, fanno tornei a volte che durano anche un giorno o due giorni, cioè nel corso di un pomeriggio si riescano a fare anche tranquillamente 8-10 battaglie, basta che non ci siano giocatori un po' troppo lenti al tavolo. Ve ne parlo a breve, dopo la sigla. Warhammer Underworlds, che vedete nell'ultima scatola uscita qui davanti da El Chasm, quella più attuale, ogni volta che esce un'edizione fanno sempre, rivedono un po' il regolamento, limano un po' qualche regoletta, alla fin fine creano nuove bande che vanno a espandere il contenuto bellico della scatola principale, dove dentro ci sono Illuminate con i serbi di Slanish, il dio della lussuria, uno dei quattro dei del caos, e vanno ad espandere appunto le bande che si possono utilizzare. Per questa edizione di Dire Chasm, ad esempio, che ce l'abbiamo, ve le faremo vedere in un altro video, sono usciti i vampiri, la Crimson Court, che sono veramente spettacolari, e poi sono uscite dall'altra parte le streghe di Morati. Ad esempio, nell'edizione precedente, o forse due edizioni prima, due stagioni prima, c'erano i Night Taunt della Briar Queen, e dall'altra parte c'erano invece i Stormcast, e così via. Comunque è un gioco velocissimo della Games Workshop, pensato per partite velocissime, quindi se fate una partita con un vostro amico un po' lento a fare il turno, e una partita vi dura un'ora, un'ora e mezzo, ragazzi, c'è qualcosa che non va, perché questo è un gioco fatto e pensato per concludersi in una manciata di turni, dove in ogni turno si possono fare fino a 4 attivazioni per giocatori, quindi è proprio pensato per essere un gioco velocissimo. Vi faccio vedere un pochino come funziona, al solito una piccola inferennatura, ma prima di tutto, unboxing, confezione del gioco, abbastanza grande, devo dire la verità, per un gioco del genere, perché comunque è ricchissimo di contenuti, e anche il disegno che c'è sopra, gli elfi alla fin fine, quelli che contemplano gli elfi alti, che vanno a combattere i seguaci del dio della lussuria, Slanish, è veramente spettacolare. Apriamo. Abbiamo un piccolissimo tutorial, inizia qui, la prima battaglia, la prima partita, leggetevi questo, non leggete il manualetto sotto delle regole, che comunque è veloce, leggete solo questo per la prima partita, tanto vi basta e vi avanza, e fatta la prima partita, meglio se le prime due, che avete preso un pochino più di manualità, con le regole, velocità e tutto quanto, vi leggete regolamente Spanso, che ha un bel po' di pagine, ma non vi preoccupate, le regole del gioco sono tre, veramente non scherzo, è il gioco più facile della GV, anche più di Warcry, e sono poi spiegate bene, perché vedete sempre c'è accanto l'immagine, per spiegarvela ancora meglio. Tutti qua una bella bustona, dove ci sono i tile di gioco, che ora tanto poi vi faccio vedere in fase di spiegazione delle regole, e poi tutti quanti i token del gioco, che sono praticamente i punti gloria, spesi e non spesi, tutte quante le caselle, ad esempio quelle con gli ostacoli, che potete andare a mettere, e poi i vari token per la marcia, per la carica, per la difesa e quant'altro, e abbiamo i mazzi, comodamente divisi, come potete vedere qua giù, che sono divisi per le due fazioni, già tagliate, voi praticamente l'aprite, e il mazzo per la vostra fazione, per la vostra banda, è già fatto, non dovete nemmeno starla a creare, e poi ovviamente quando avete preso un pochino più di manualità, potete farvi il mazzo da soli, e qui ci sono i dadi, dadi bianchi per l'attacco, dadi neri per la difesa, dadi blu, questi qui celesti, per la magia, e un po' di miniature, questo è il capo banda, della banda di Slanish, guardate il dettaglio, no veramente impressionante, impressionante, bellissimo, un membro mutato, un elite, praticamente della banda, sempre del culto di Slanish, anche questo è bellissimo, e c'ha quella specie di Kela sul braccio, che è qualcosa di spettacolare, il capo banda, che è uno stregone, dei Luminet, anche questo è veramente bellissimo, poi col gufo sulla mano, è spettacolare, così sulla roccia, proprio posa, anche bellissima, mi piace, e un combattente, da corpo a corpo, che un pochino mi ricorda, quelli del vecchio mondo, degli Elfi Alti, se vi ricordate, i maestri di spada di Oeth, sembra un po', veramente bellissimo, allora, questo qua, che vedete qui davanti, ho levato il microfono, penso si senta un po' la differenza, è il campo di battaglia, che potete montare come volete, io l'ho montato così, ma lo potete montare anche spostato, basta che comunque gli esagoni, come vedete, vadano sempre a combaciare, o le potete mettere anche per lungo, quindi comunque, la differenza non cambia, in questi punti bianchi, vi scegliete il tavolo, e schierate le vostre truppe, come vedete, sono tutti su quei puntini bianchi, che sono punti di partenza, e poi, ci sono obiettivi, questi qui sono esagoni obiettivi, che andate a piazzare voi, voi e il vostro avversario, ostacoli, e caselle rosse, quando le vedete col bordo rosso, vuol dire che vanno a fare danno, se vedete una casella col bordo bianco, molto più spesso, vuol dire che è una casella, che blocca la vista, e cose del genere, quindi, ipoteticamente, questo è lo schieramento, delle truppe, della banda di Slanish, e questo di qua, dei Delphi, dei Luminet, poi, ora vi faccio vedere, bene o male, come funziona, qui ci sono le carte, della nostra banda, che vanno a rappresentare, la distanza di attacco, i dadi che tira, i danni che fa, che colpisce, la caratteristica di esaltazione, perché quando fate, quello che qui c'è scritto, se riesco a fare focus, la carta la girate, e sull'altro lato, come vedete, è più forte, e poi, di qua, ci sono le abilità speciali, il simbolo, e il nome del personaggio, e qui giù, in basso, vedete, c'è il valore di movimento, questo si muove di 4, il valore di difesa, che è 1, qui accanto, e qua, i punti ferita, sempre sulle carte, vedete che sulla difesa, c'è un disegno, sotto, c'è uno scudo, e ad esempio, questo di qua, ha una freccia, così, una curva, questo vuol dire, che ha un valore di schivata, e questo che ha un valore di, dove è il mio dito, eccolo qua, parata, stessa cosa sugli attacchi, questo ha un martello, quindi vuol dire, che colpisce, quando sul dado, per attaccare, che vi faccio vedere, esce quel simbolo lì, e poi abbiamo, i nostri mazzi di carte, che sono, il mazzo potere, fatto da azzardi, e da altre carte, che deve essere composto, almeno da 20 carte, e ne pescate 5, all'inizio del turno, i turni di gioco sono 3, e questo è il mazzo, delle missioni, che deve essere composto, solo da 12, no meno di più, da 12 sempre, e ne pescate 3, quindi queste sono, le missioni, che dovete compiere, per andare a guadagnare, i punti gloria, che vi fanno vincere la partita, che poi sono questi qua, che servono per attivare, potenzialmente i personaggi, e di qua, ci sono le carte potere, che andate a utilizzare, per dare possanza, ai vostri personaggi, usa e scarta, o a volte invece, ci dovete spendere, un punto gloria, per comprarne una, e sono upgrade, veri e propri, che non finiscono mai, ci si va a muovere, sulla mappa, col valore di movimento, che avete visto, e ciascun giocatore, affina 4 attivazioni, per turno, dopo la fine del terzo turno, è finita la partita, quindi si va a fare il conteggio, e chi ha punti, gloria, o da spendere, o spesi dall'altra parte, nel caso abbia comprato, potenziamenti incantesimi o altro, ha vinto la partita, semplicemente per muoversi, ci si può muovere, sugli esagoni ovviamente, e se questo si muovesse, ad esempio, tanto per farvi un po' di regola, di 3, potrebbe fare così, e andare in corpo a corpo, con quest'altro, bisogna vedere però, prendendo la scheda di lui, che è questo qua giù, bisogna vedere anche, la caratteristica dell'attacco, che è questo qui, l'attacco suo, almeno che non si è saltato, attacco a distanza 2, quindi ci siamo, perché siamo a 1, e vedete, tira due dadi, che sono questi due dadi bianchi, qui, e fa, se colpisce, fa 2 di danno, mentre lui, se non erro, ha un valore di difesa di 1, con uno scudo, e sui dadi, ci sono dei simboli, come vedete, che devono essere, lo stesso simbolo, che c'è, sul valore di attacco, quindi qui c'è, una mazza, un martello, qualcosa del genere, lui colpirà, se tirando, uscirà questo sul dado, i valori sul dado sono, nel suo caso, questo è un successo, questo non è niente, perché lui non ha quel simbolo, questo è un successo critico, come vedete, questo è un successo, solo se ci sa supporto, se siamo supportati, quindi vuol dire, se ne abbiamo due, in corpo a corpo, con lo stesso, vale anche questo, perché è un supporto, se invece, abbiamo un doppio supporto, vale anche questo qua, quindi nel caso, se fosse circondato, da un terzo elfo, qua giù in fondo, stessa cosa, ad esempio, dado di difesa, difesa critica, supporto, come vi ho detto prima, schivata, se lui ha un valore di schivata, perché se lui schiva soltanto, tira questo dado, e gli esce, questo valore, non ha parato il colpo, perché lui non para, lui schiva, quando si vanno a tirare i dadi, si fa sempre la conta, vince chi ha, più successi critici, quindi, nel caso, io abbia tirato, ad esempio, una mazza, questa qui, e un'altra, due martelli, quindi avrei colpito, perché lui colpisce col martello, però, lui qui, con un solo dado, avesse tirato, ad esempio, una difesa critica, ha vinto, perché i critici vincono sempre, anche se qui avesse fatto 30 valori, un critico li batte tutti, si va a fare la conta dei critici, chi ha più critici vince, se nessuna ha critici, o siamo in pari merito di critici, vince chi ha più segnalini, nell'altro caso, se lui avesse fatto due colpito, e lui fosse riuscito a fare la sua schivata, comunque sarebbe stato colpito, perché quest'altri ne ha due, e questo soltanto uno, e quando si va a colpire qualcuno, gli si fanno sempre i danni che sono scritti qui, sempre leggendo anche accanto all'abilità, mi raccomando, e questi sono i punti ferita, nel caso lui avrebbe fatto due danni, due danni che poi andrebbero messi sulla scheda sua, quando arriva a zero, praticamente è fuori dalla battaglia, regola vuole che voi, con le vostre azioni, che avete all'inizio di attivazioni, potete far attivare per quattro volte, anche lo stesso eroe, però lo stesso eroe, può muoversi una volta sola, o caricare una volta sola, se nella sua attivazione, ha mosso o ha caricato, non si può più muovere, però se rimane corpo a corpo, può continuare a picchiare, voi potete tenere ferma tutta la banda, per far agire solo lui, oppure potete pescare nuove carte, nel caso carte missione, se quelle che avete in mano non vi piacciono, oppure carte potere, le carte come vi ho detto, le usate per dare possanza alla vostra banda, un'infarinatura generale sulle regole, è questa qua ragazzi, se nel corso del video, avete sentito un po' il ventilatore, ragazzi perdonatici, ma anche in questo nuovo ufficio, cioè è caldo, è normale, siamo d'estate in Toscana, se inizia a chiudere finestre è tutto, non accendi il ventilatore, mi vedevate grondare, comunque in conclusione, questa ultima scatola, di Warhammer Underworlds, da Irchasm, è una figata assurda, col contenuto che c'è qui dentro, potrete giocare tranquillamente per mesi, però una cosa bella di questo gioco, di Underworlds in generale, non di questa scatola, è che è un gioco di carte non collezionabili, e hanno fatto una figata, ad esempio, se voi comprate le streghe di Morati, o la Crimson Court, dentro ci sono dei mazzi di carte, che trovate solo in quella scatola, quindi non c'è il fatto di trovare doppioni, oppure oddio mi servirebbe quella carta, ma non riesco a trovarla, se voi andate a comprare il pacchettino della banda dei vampiri, dentro ci sono tutte quante le carte dei vampiri, più carte comuni, vuol dire carte che potete usare con la banda dei vampiri, più carte comuni che potete dare a chiunque, quindi, da una parte di marketing lo capisco, se volete avere tutte le carte per farvi il mazzo perfetto, per forza di cosa dovete comprare tutto quello che esce, e di solito per ogni stagione esce sempre la scatola base, e fino a 4 bande, per ora ne sono uscite 2 o 3, dovrebbe uscire ora a breve l'ultima, e è un gioco velocissimo ragazzi, è un gioco pensato per i tornei, ed è un gioco pensato per, ma massimo esagerando, in 30 minuti, in mezz'ora, di finire una partita, quindi, se un gioco ci devi stare, 5-6 ore, è difficile che sia un gioco da torneo, quello magari più Warhammer 40.000, Warhammer Age of Sigman, Comunque, passato a pieni voti, io ringrazio la Gioco Libreria Simola, per avermi offerto questa copia, e vi ricordo, primo link in descrizione, e in sovraimpressione, se lo volete comprare, direttamente dal nostro negozio sponsor, Gioco Libreria Simola, al miglior prezzo sul mercato, se lo trovate in lista, ma è finito, o proprio non c'è in lista, mandate una mail al supporto, a Corradio, che è il proprietario della Gioco Libreria Simola, e fateli presente, che arrivate dal mio canale, dal canale di Coridan, lui farà il possibile per trovarvi questo prodotto, che sicuramente ha, però, nel caso non l'avesse, farà il possibile, e usate sempre, come vedete a nota, il codice, mio personale discount, Coridan 7, per avere uno sconto del 7%, e per spese superiori ai 79€, non pagate nemmeno le spese postali, in tutta Europa, 24 ore ce l'avete a casa, quindi, isole comprese, quindi comunque anche, comodissimo, fatemi sapere un po' cosa ne pensate, e il titolo ragazzi, poi, le miniature, ve le ho fatte vedere un po' in fase di unboxing, sono bellissime, al massimo livello, e non c'hanno bisogno di colla, per essere montate, ciao ragazzi, alla prossima!